Sassolo Di Paolo, l'obiettivo di questa conferenza stampa perché i toni non sono stati un atto d'accusa importante perché avete fatto un'azione di controllo e di visione su tutte le società di gestione del lato, ma soprattutto qual è l'obiettivo? E' portare alla ragione i comuni? Sì, noi ci siamo prefissati nel momento in cui abbiamo fatto una legge di cui il Presidente ha fatto accenno, di cui ha fatto menzione, è quello di avere una visione unica del Governo dell'Acqua proprio perché a seguito delle ricognizioni che noi abbiamo fatto sul territorio, attraverso anche l'opera di affidamento da parte della regione al commissario unico straordinario, era quel lavoro di prendere conoscenza delle criticità che si sono verificate all'interno della gestione del servizio idrico. E chiaramente ci siamo resi conto che è un servizio che per molti fattori, perché alcuni sono stati detti, sì il personale, il personale è una parte, è una componente, ma ci sono anche altre componenti come affidamento di servizi a volte fatti in maniera molto superficiale e leggera, e quindi che hanno aggravato, che hanno determinato un ulteriore aumento dei costi all'interno delle società. E abbiamo chiamato, io mi sono anche adoperato insieme al commissario per tentare di convocare l'Assemblea dei Sindaci, cercare di far capire all'Assemblea dei Sindaci che purtroppo il sistema era ormai esploso e quindi la situazione era così evidente per cui si dovesse ripensare il Governo dell'Acqua. Ciò che non è stato fatto, perché noi per la verità abbiamo molte difficoltà a mettere insieme tutti i sindaci, anche per cercare di far capire che il fallimento è il fallimento anche della loro realtà, dei bilanci comunali, perché dopo questo si andrà a riverberare sui bilanci comunali, quindi noi possiamo capire che cosa significa. Significa portare in devolo tutti i bilanci dei comuni, perché il debito è molto elevato. Allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo tentare di fare ancora un ulteriore tentativo presso l'Assemblea dei Sindaci, perché riconsiderano la loro posizione, perché cominciano ad attuare, ad approvare dei piani industriali seri, credibili, insomma di riefficindare tutto il sistema, di riportarlo a norma e dopodiché di fare una riforma che sia capace poi di avere una visione d'insieme del Governo dell'Acqua, perché diversamente noi abbiamo fallito anche, non soltanto, ma non noi come Regione, perché in realtà chi fallisce è tutto il sistema, però in questo sistema siamo noi che dobbiamo in qualche maniera governarlo. La Regione in primis cercando di far capire i sindaci perché si rendano conto che fallire, nel momento in cui fallisce il sistema, falliscono anche i loro bilanci. Quindi che cosa abbiamo fatto? Alla fine che cosa determineremo? Che il servizio poi sarà sempre pubblico? Cioè noi vogliamo tenere la gestione del servizio pubblico, ma se questo poi non sarà possibile e si deciderà diversamente, saremo noi ad averlo fatto o saranno loro aver creato le premesse perché questo potesse succedere?